Il Cobeco, dopo l'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti, lancia un nuovo accorato appello all'amministrazione Servalli per cercare di evitare la vendita di alcuni beni pubblici. Secondo i rappresentanti del Comitato Beni Comuni, si poteva evitare di aderire al piano di riequilibrio, poiché, a loro avviso, la situazione era meno grave di quella che si voleva far credere, tenendo conto che il disavanzo accertato anche dalla Corte dei Conti non ammonta 59 milioni di euro, bensì a 30 milioni. Dinanzi ad una situazione debitoria non drammatica, si legge in una nota del Cobeco, l'amministrazione Servalli non ha trovato altra situazione che condannare la città con il piano di riequilibrio, con annesse restrizioni e penalizzazioni. A questo punto è evidente che va modificato anche il piano delle allenazioni e che non si possono sacrificare immobili di valore. Nello specifico, il Cobeco punta all'eliminazione dall'elenco dei beni da allenare dello storico Palazzo Buongiorno, dell'ex velodromo e dell'edificio che ospitava le scuole del Corpo di Cava, immobile che potrebbe diventare un punto di riferimento per la valorizzazione turistica della frazione dove sorge l'abbazia benedettina e dove c'è uno degli accessi principali a Parco dei Monti Lattari. Il Cobeco, conclude la nota a firma della portavoce Maria Di Serio, continuerà a vigilare sulla inalienabilità dei beni comuni e assumerà tutte le iniziative necessarie a tutelarne la fruizione da parte dei cittadini cavesi.